Il caro energia sta pesando in maniera decisiva sulle tasche di famiglie e imprese e sta anche spingendo verso l'alto il costo di molti beni di consumo. E con l'avvicinarsi delle festività natalizie cresce anche la preoccupazione per un Natale che con ogni probabilità sarà nel segno del risparmio. Una questione su cui il presidente di Asso Turismo, Confesercente Abruzzo Gianluca Grimi, chiede alle amministrazioni locali di evitare sprechi energetici. Con l'approssimarsi delle festività e lancia un appello accorato finché vengono dati dei segnali tangibili di solidarietà e vicinanza a famiglie e piccole imprese. Per esempio le piste di patinaggio mi sembra difficile intravederle quest'anno perché sarebbero semplicemente ingestibili per i costi energetici. Ecco, noi pensiamo che anche i comuni, pur non potendo risolvere la situazione, perché è una situazione che può essere affrontata solo a livello europeo e a livello nazionale. Secondo il presidente di Asso Turismo, le amministrazioni locali potrebbero destinare le somme risparmiate alla creazione di fondi di solidarietà per famiglie e piccole imprese in difficoltà. Un segnale di presenza devolvendo le cifre magari risparmiate sulle piste di patinaggio al sociale creando dei fondi di aiuto per le bollette, per il sociale, per le famiglie, per le piccole imprese. Ecco, questo sarebbe particolarmente importante. È giusto che i comuni partecipino, non solo protestino, ma partecipano concretamente sia con detassazione sia creando fondi di aiuto sociale per le imprese e per le famiglie. Sull'organizzazione delle prossime manifestazioni natalizie che quest'anno dovranno essere svolte sia per tradizione che per sostenere il commercio locale, bisognerà però evitare, secondo il presidente Grimi, le iniziative energivore. La manifestazione natalizia si deve fare, è importantissima per il commercio di prossimità. Bisogna assolutamente evitare lo spreco energetico che non è solo dato dalla lampadina. Io ripeto, non è che ce l'ho con le piste di patinaggio, ma focalizzo questo perché sono esattamente le più energivore. Facciamo altro, facciamo aggregazione, facciamo aggregazione sociale, facciamo che devolviamo queste cifre alle famiglie che ne hanno veramente bisogno. Attenzione, questa crisi è più forte anche di quella del Covid, perché mentre nel Covid non c'erano costi, adesso le imprese e le famiglie li devono affrontare e pagare immediatamente. E non basta rateizzare una bolletta perché ne rateizzi una, ma l'altra, sono cifre veramente enormi. Non ci siamo mai trovati in una situazione così grave come questa, io perlomeno non me la ricordo, in vent'anni di attività sindacale. Grazie.